Indifferenziata, umido, secco, plastica, tutto negli stessi contenitori. Malgrado gli sforzi del comune, la raccolta differenziata a Napoli stenta a decollare. Da fuori grotta a Scampia, gli ultimi due quartieri della città dove l'amministrazione ha provveduto a installare bidoni per la raccolta dell'umido, lo scenario che si para davanti a cittadini e operatori ecologici chiamati a raccogliere i rifiuti è più o meno sempre lo stesso. Nei contenitori marroni dove dovrebbe finire solo materia organica si trovano anche carta indifferenziato, nelle campane per la plastica che spesso traboccano dei sacchetti e bottiglie e anche carta e vetro. Senza considerare i rifiuti ingombranti lasciati sul marciapiede accanto ai cassonetti. Di questo passo l'aumento della percentuale di differenziata in città resta una chimera. La gente non collabora perché non c'è formazione da parte del comune, non c'è nessuna collaborazione da parte del comune per affiancare la gente. L'umido stanno incominciando a capire qualche cosa però è ancora dura. Io qualcosa lo faccio di mio sì, sono anche io peccatore però comunque faccio il possibile. Ho creato da quando è stata istituita la raccolta di differenziato quattro cose. Uno per l'umido, uno per l'indifferenziato, uno per la plastica e uno per la carta. Non so, quelli che li ritirano se mischiano il tutto oppure la differenziano pure loro. Questo non lo so perché non ho avuto modo di controllare. La gente incivile oppure mettete dei bidoni più grandi, più ricettivi perché la spazzatura ci va in testa, è impossibile, perciò la gente se ne scappa da questa città. Ci dovrebbe stare un pochettino di controllo ma siccome che nessuno se ne frega della spazzatura, del controllo, ognuno fa il come di suo lavoro.